L'Ecclesiaste, capitolo primo. Parole dell'Ecclesiaste, figliuolo di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto all'uomo di tutta la fatica che dura sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene, e la terra sussiste in perpetuo. Anche il sole si leva, poi tramonta e s'affretta verso il luogo donde si leva di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando, girando continuamente per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non sempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, tornano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio più di quel che l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere, e l'orecchio non è mai stanco d'udire. Quello che è stato è quel che sarà, quel che si è fatto è quel che si farà. Non v'è nulla di nuovo sotto il sole? Va egli qualche cosa della quale si dica, guarda, questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei tempi che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose degli altri tempi, e di quel che succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Io, l'Ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme, ed ho applicato il cuore a cercare di investigare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il sole, occupazione penosa, che Dio ha data ai figliuoli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho veduto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco tutto è vanità e un correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contato. Io ho detto, parlando in cuor mio, ecco, io ho acquistato maggior sapienza di tutti quelli che hanno regnato prima di me in Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta sapienza e molta scienza, ed ho applicato il cuore a conoscer la sapienza e a conoscer la follia e la stoltezza, e ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento, poiché dov'è molta sapienza v'è molto affanno, e chi accresce la sua scienza accresce il suo dolore. Ecclesiaste capitolo secondo Io ho detto in cuor mio, andiamo. Io ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere. Ed ecco che anche questo è vanità. Io ho detto del riso, è una follia, e della gioia, a che giova? Io ho presi in cuor mio la risoluzione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, eppur lasciando che il mio cuore mi guidasse saviamente all'attenermi alla follia, affinché io vedessi ciò che è bene che gli uomini facciano sotto il cielo durante il numero dei giorni della loro vita. Io intrapresi dei grandi lavori, mi edificai delle case, mi piantai delle vigne, mi fesci dei giardini, dei parchi, e vi piantai degli alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costrossi degli stagni per ad acquare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve, ed ebbi dei servi nati in casa. Ebbi pure greci ed armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento e oro e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figlioli degli uomini e delle donne in gran numero. Così divenni grande, e sorpassai tutti quelli che erano stati prima di me in Gerusalemme, e la mia sapienza rimase pur sempre meco. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro, non privai il cuore da alcuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava ad ogni mia fatica, ed è la ricompensa che mi è toccata ad ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte, e la fatica che avevo durata a farle, ed ecco che tutto era vanità e un correre dietro al vento, e che non se ne trai alcun profitto sotto il sole. Allora mi misi ad esaminare la sapienza, la follia e la stoltezza. Che farà l'uomo? Che succederà al re? Quello che è già stato fatto, e vidi che la sapienza ha un vantaggio sulla stoltizia, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il savio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre, ma ho riconosciuto pure che tutti e due hanno la medesima sorte. Un Dio ho detto in cuor mio, la sorte che tocca lo stolto toccherà anche a me, perché dunque esser stato così savio. E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità, poiché tanto del savio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, giacché nei giorni a venire tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il savio muore alle parti dello stolto. Perciò io ho odiato la vita, perché tutto ciò che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità e un correre dietro al vento. E ho odiato ogni fatica che ho durata sotto il sole, e di cui debbo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. E chissà se gli sarà savio stolto. Eppure sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saviezza sotto il sole. Anche questo è vanità. Così sono arrivato a far perdere al mio cuore ogni speranza circa tutta la fatica che ho durata sotto il sole. Poiché ecco un uomo che ha lavorato con saviezza, con intelligenza e con successo, e lascia il frutto del suo lavoro in eredità un altro, che non va speso intorno alcuna fatica. Anche questo è vanità e un male grande. Difatti che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto quello che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio, perfino la notte il suo cuore non posa. Anche questo è vanità. Non v'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del far godere l'anima sua e il benessere in mezzo alla fatica che dura. Ma anche questo ho veduto che viene dalla mano di Dio. Infatti chi senza di Lui può mangiare o godere? Poiché Dio dà all'uomo che gli gradisce sapienza, intelligenza e gioia, ma al peccatore dà la cura di raccogliere ed accumulare per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio, ed anche questo è vanità e un correr dietro al vento. Ecclesiaste, capitolo terzo Per tutto v'è il suo tempo, v'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sverlare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare, un tempo per gettar via pietre e un tempo per accoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracciamenti, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cuscire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affaticano. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, e gli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non v'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve e gode del benessere del mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre, niente v'è da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Ciò che è, è già stato prima, e ciò che sarà, è già stato, e Dio riconduce ciò che è passato. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare vede la impietà, e che nel luogo stabilito per la giustizia vede la impietà. E ho detto in cuor mio, il Dio giudicherà il giusto e l'empio perché v'è un tempo per il giudizio di qualsivoglia azione, e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Io ho detto in cuor mio, così è, a motivo dei figlioli degli uomini perché Dio li metta alla prova, ed essi stessi riconoscano che non sono che bestie, poiché la sorte dei figlioli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio, e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere, e tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto, e se il soffio della bestia scende in basso nella terra. Io ho dunque visto che non v'è nulla di meglio per l'uomo nel rallegrarsi nel compiere il suo lavoro, tale è la sua parte, poiché chi lo farà, tornare per godere di ciò che verrà dopo di lui. Ecclesiaste capitolo quarto Mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettano sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli, e dal lato dei loro oppressori la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Un Dio ho stimato i morti che sono già morti, più felici dei vivi che sono vivi tuttora, e più felici degli uni e degli altri, colui che non è ancora venuto all'esistenza, e non ha ancora veduto le azioni malvagie che si commettano sotto il sole. E ho visto che ogni fatica ed ogni buona riuscita del lavoro provocano l'invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le braccia e mangia la sua propria carne. Va al meglio d'una mano piena di riposo che ambo le mani piene di travaglio e di corsa dietro al vento. E ho visto anche un'altra vanità sotto il sole. Un tale è solo senza alcun che gli sia da presso. Ma ha né figlio né fratello, e non di meno sa fatica senza fine, e i suoi occhi non si sazia mai di ricchezze e non riflette. Ma per chi dunque ma affatico e privo l'anima mia d'ogni bene? E anche questa è una vanità e un'ingrata occupazione. Due valgono meglio d'un solo perché son ben ricompensati della loro fatica. Perché se uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a colui che è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure se due dormono assieme si riscaldano, ma chi è solo come farà a riscaldarsi? E se uno tenta di sopraffare colui che è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Meglio un giovinetto povero e savio d'un re vecchio e stolto che non sa più ricevere ammonimenti. È uscito di prigione per essere re, egli che era nato povero nel suo futuro regno. Io ho visto tutti i viventi che vanno e vengano sotto il sole unirsi al giovinetto che doveva succedere al re e regnare al suo posto. senza fine erano tutto il popolo tutti quelli che alla testa dei quali ei si trovava. Eppure quelli che verranno in seguito non si rallegreranno di lui. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Ecclesiaste Capitolo Quinto Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e apprestati per ascoltare anziché per offrir il sacrificio degli stolti il quale non sanno neppure che fanno male. Non esser precipitoso nel parlare e il tuo cuore non s'affretti a proferir verbo davanti a Dio poiché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole sian dunque poche poiché con la moltitudine delle occupazioni vengono i sogni e con la moltitudine delle parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatti un voto a Dio non indugiare ad adempirlo poiché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempirli. Non permettere la tua bocca di render colpevole la tua persona e non dire davanti al messaggero di Dio è stato uno sbaglio poiché il Dio si aderirebbe egli per le tue parole e distruggerebbe l'opera delle tue mani poiché se vi sono delle vanità nella moltitudine e dei sogni ve ne sono anche nella moltitudine delle parole perciò temi Dio. Se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia non te ne meravigliare poiché sopra un uomo in alto veglia uno che sta più in alto e sovressi sta all'altissimo ma vantaggioso per un paese è per ogni rispetto un re che si faccia servo dei campi chi ama l'argento non è saziato con l'argento e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta ed anche questo è vanità quando quando abbondano i beni abbondano anche quei che li mangiano e che pro ne viene ai possessori se non di veder quei beni coi loro occhi dolce è il sonno del lavoratore abbia gli poco molto da mangiare ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire v'è un male grave che io ho visto sotto il sole delle ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto e se ha generato un figliuolo questi resta con nulla in mano uscito ignudo dal seno di sua madre quel possessore se ne va come era venuto e di tutta la sua fatica non può prender nulla da portare seco in mano anche questo è un male grave che i se ne vada ta qual è venuto e qual profitto gli viene d'aver faticato per il vento e per di più durante tutta la vita egli mangia nelle tenebre e ha molti fastidi malanni e cruci ecco quello che ho veduto buona e bella cosa è per l'uomo mangiare bere godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che dura sotto il sole tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati poiché questa è la sua parte e anche se Dio ha dato a un uomo delle ricchezze e dei tesori e gli ha dato potere di goderne e di prenderne la sua parte e di gioire della sua fatica è anche questo un dono di Dio poiché un tal uomo non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita già che Dio gli concede gioia nel cuore ecclesiaste capitolo sesto v'è un male che ho veduto sotto il sole e che grava di frequente sugli uomini eccole uno a cui Dio dà ricchezze tesori e gioia in guisa che nulla manca all'anima sua di tutto ciò che può considerare ma Dio non gli dà il potere di goderne né gode uno straniero ecco una vanità e un male grave se uno generasse cento figliuoli vivesse molto anni sì che i giorni dei suoi anni si moltiplicassero se l'anima sua non si sazia di beni e dei non a sepoltura io dico che un aborto è più felice di lui poiché l'aborto nasce in vano e se ne va nelle tenebre e il suo nome resta coperto di tenebre non ha neppur visto né conosciuto il sole e non di meno ha più riposto di quell'altro quando anche questi vivesse due volte mille anni e ne godesse benessere e anche però non va tutto a finire in un medesimo luogo tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca e non di meno l'appetito suo non è mai sazio che vantaggio ha il savio sopra lo stolto o che vantaggio ha il povero che sa come condursi in presenza dei viventi veder con gli occhi va al meglio del lasciare vagare i propri desideri anche questo è vanità e un correre dietro al vento ciò che esiste è già stato chiamato per nome da tempo ed è noto che cosa l'uomo è e che non è può egli contendere con colui che è più forte di lui moltiplicare le parole è moltiplicare la vanità che pronneviene all'uomo poiché chi sa ciò che è buono per l'uomo nella sua vita durante tutti i giorni della sua vita vana che gli passa come un'ombra e chi sa dire all'uomo quel che sarà dopo di lui sotto il sole ecclesiaste capitolo settimo una buona reputazione va al meglio d'olio odorifero e il giorno della morte meglio del giorno della nascita è meglio andare in casa di duolo che andare in una casa di convito poiché là è la fine d'ogni uomo e colui che vive vi porrà mente la tristezza va al meglio del riso poiché quando il viso è mesto il cuore diventa migliore il cuore del savio è nella casa del duolo ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia meglio vale udire la riprensione del savio che udire la canzone degli stolti poiché qual è lo scoppiettio dei pruni sotto la pentola tale è il riso dello stolto anche questo è vanità certo l'oppressione rende insensato il savio e il dono fa perdere il senno meglio vale la fine di una cosa che il suo principio e lo spirito paziente va al meglio dello spirito altero non t'affrettare a irritarti nello spirito tuo perché l'irritazione riposa in seno agli stolti non dire come mai i giorni di prima erano migliori di questi poiché non è per sapienza che tu richiederesti questo la sapienza è buona quando un'eredità è anche di più per quelli che vedono il sole poiché la sapienza offre un riparo come l'offre il denaro ma l'eccellenza della scienza sta in questo che la sapienza fa vivere quelli che la possiedono considera l'opera di Dio chi potrà raddrizzare ciò che egli ha ricurvato nel giorno della prosperità godi del bene e non nel giorno dell'avversità rifletti Dio ha fatto l'uno e l'altro affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui io ho veduto tutto questo nei giorni della mia vanità vetta al giusto che perisce per la sua giustizia e vetta al empio che prolunga la sua vita con la sua malvagità non essere troppo giusto e non ti far savio oltre misura perché ti distruggeresti non essere troppo empio né essere stolto perché morreresti tu prima del tempo è bene che tu t'attenga fermamente a questo e che tu non ritragga la mano da quello poiché chi teme Dio evita tutte queste cose la sapienza dà al savio più forza che non facciano dieci capi in una città certo non v'è sulla terra o alcun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi non porre dunque la mente a tutte le parole che si dicono per non sentirti maledire dal tuo servo poiché il cuore sa che sovente anche tu hai maledetto altri io ho esaminato tutto questo con sapienza e ho detto voglio acquistare sapienza ma la sapienza è rimasta lungi da me una cosa che è tanto lontana e tanto profonda chi la potrà trovare io mi sono applicato nel cuore mio a riflettere a investigare a cercare la sapienza e la ragione delle cose e a riconoscere che l'impietà è una follia e l'astoltezza è una pazzia e ho trovato una cosa più amara della morte la donna che è tutta tranelli il cui cuore non è altro che reti e le cui mani sono catene colui che è gradito a Dio le sfugge ma il peccatone rimane preso da lei ecco quello che ho trovato dice l'ecclesiaste dopo aver esaminato le cose una ad una per afferrarne le ragioni ecco quello che l'anima mia cerca ancora senza che io l'abbia trovato un uomo fra mille l'ho trovato ma una donna fra tutte non l'ho trovata questo soltanto trovato che Dio ha fatto l'uomo retto ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi ecclesiaste capitolo ottavo chi è come il savio e chi conosce la spiegazione delle cose la sapienza ad un uomo gli fa risplendere la faccia e la durezza del suo volto ne è mutata io ti dico osserva gli ordini del re e questo a motivo del giuramento che hai fatto dinanzi a Dio non t'affrettare ad allontanarti dalla sua presenza e non persistere in una cosa cattiva poiché egli può fare tutto quello che gli piace perché la parola del re è potente e chi gli può dire che fai chi osserva il comandamento non conosce disgrazia e il cuore dell'uomo savio sa che ve un tempo e un giudizio perché per ogni cosa ve un tempo e un giudizio giacché la malvagità dell'uomo pesa grave adosso a lui l'uomo infatti non sa quel che avverrà poiché chi gli dirà come andranno le cose non vè uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere o che abbia potere sul giorno della morte non vè congedo in tempo di guerra e l'iniquità non può salvare chi la commette io ho veduto tutto questo e oppostamente a tutto quello che si fa sotto il sole quando l'uomo signoreggia sugli uomini per loro sventura ed ho veduto allora degli empi ricever sepoltura ed entrare nel loro riposo e di quelli che si erano condotti con rettitudine andare ai luoghi del luogo santo ed essere dimenticati nella città anche questo è vanità siccome la sentenza contro una mala azione non si eseguisce prontamente il cuore dei figliuoli degli uomini è pieno di voglia di fare il male quandounque il peccatore faccia cento volte il male e pur prolunghi i suoi giorni pure io so che il bene è per quelli che temono i Dio e che provano timore nel suo cospetto ma non vè bene per l'empio ed ei non prolungherà i suoi giorni come fa l'ombra che s'allunga perché non prova timore nel cospetto di Dio v'è una vanità che avviene sulla terra che è e che vi sono dei giusti i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi e vi sono degli empi i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti io ho detto che anche questo è vanità così io ho lodato la gioia perché non v'è per l'uomo altro bene sotto il sole fuori del mangiare del bere e del gioire questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro durante i giorni di vita che Dio gli ha dato sotto il sole quando io ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza e a considerare le cose che si fanno sulla terra perché gli occhi dell'uomo non godono sonno né giorno né notte allora ho mirato tutta l'opera di Dio e ho veduto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole egli ha un bel affaticarsi a cercarne la spiegazione non riesce a trovarla e anche se il savio pretende di saperla non però può trovarla ecclesiaste capitolo nono sì io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo che ciò che i giusti e i savi e le loro opere sono nelle mani di Dio l'uomo non sa neppure se amerà o se odierà tutto è possibile tutto succede ugualmente a tutti la medesima sorte attende il giusto e l'empio il buono e puro e l'impuro che offre sacrifizi e chi non li offre tanto è il buono quanto il peccatore tanto è colui che giura come chi teme di giurare questo è un male che è fra tutto quello che si fa sotto il sole che tutti abbiano una medesima sorte e così il cuore dei figlioli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono poi se ne vanno ai morti per chi è associato a tutti gli altri viventi c'è speranza perché un cane vivo va al meglio di un leone morto difatti i viventi sanno che moriranno ma i morti non sanno nulla non v'è più per essi alcun salario poiché la loro memoria è dimenticata il loro amore come il loro odio la loro invidia sono da lungo tempo periti ed essi non hanno più ne avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole va mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro perché Dio ha già gradito le tue opere siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo godi la vita con la moglie che ami durante tutti i giorni della vita della tua vanità che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità poiché questa è la tua parte della vita in mezzo a tutta la fatica che duri sotto il sole tutto quello che la tua mano trova da fare fallo con tutte le tue forze poiché nel soggiorno dei morti dove vai non v'è più né lavoro né pensiero né scienza né sapienza io mi son rimesso a considerare sotto il sole per correre non basta essere agili né basta per combattere essere valorosi né essere savi per avere del pane né essere intelligenti per avere delle ricchezze né essere abili per ottenere favore poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze poiché l'uomo non conosce la sua ora come i pesci che sono presi nella rete fatale e come gli uccelli che sono colti nel laccio così i figliuoli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità quando essa piomba sul loro improvvisa ho visto sotto il sole anche questo esempio di sapienza che me parsa grande c'era una piccola città con entro pochi uomini e un gran re marciò contro la cinse d'assedio e le costruì contro dei grandi bastioni ora essa si trovò un uomo povero e savio che con la sua sapienza salvò la città eppure nessuno conservò ricordo di quest'uomo povero allora io dissi la sapienza va al meglio della forza ma la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate le parole dei savi udite nella quiete valgono meglio delle grida di chi domina fra gli stolti la sapienza va al meglio degli strumenti di guerra ma un solo pecatore distrugge un gran bene ecclesiaste capitolo decimo le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere un po' di follia guasta il pregio della sapienza e della gloria il savio ha il cuore alla sua destra ma lo stolto l'ha alla sua sinistra anche quando lo stolto va per la via il senno gli manca e mostra a tutti che è uno stolto se il sovrano sale in ira contro di te non lasciare il tuo posto perché la dolcezza previene grandi peccati c'è un male che ho veduto sotto il sole un errore che procede da chi governa che cioè la stoltezza occupa posti altissimi e i ricchi seguono in luoghi bassi ho veduto degli schiavi a cavallo e dei principi camminare a piedi come degli schiavi chi scava una fossa vi cadrà dentro e chi demolisce un muro sarà morso dalla serpe chi smuove le pietre ne rimarrà contuso e chi spacca le legna corre un pericolo se il ferro perde il taglio e uno non la ruota bisogna che raddoppi la forza ma la sapienza ha il vantaggio che sempre può riuscire se il serpente morde prima di essere incantato l'incantatore diventa inutile le parole della bocca del savio sono piene di grazia ma le labbra dello stolto sono causa della sua rovina il principio delle parole della sua bocca è stoltezza e la fine del suo dire è malvagia pazia lo stolto moltiplica le parole eppure l'uomo non sa quel che gli avverrà e chi gli dirà quel che succederà dopo di lui la fatica dello stolto lo stanca perché egli non sa neppure la via della città guai a te o paese il cui re è un fanciullo e cui principi mangian fi dal mattino beato te o paese il cui re è di nobile l'ignagio e cui principi si mettono a tavola al tempo convenievole per ristorare le forze e non per ubriacarsi per la pigrizia sprofonda il soffitto per la rilassatezza delle mani piove in casa il convito è fatto per gioire il vino rende gaia la vita e il denaro risponde a tutto non maledire il re neppure col pensiero e non maledire il ricco nella camera dove tu dormi poiché un uccello del cielo potrebbe spargerne la voce e un messaggero alato pubblicare la cosa ecclesiaste capitolo undicesimo getta il tuo pane sulle acque poiché dopo molto tempo tu lo ritroverai fanne parti a sette ed anche a otto perché tu non sai che male può avvenire sulla terra quando le nuvole son piene di pioggia la riversano sulla terra e se un albero cade verso il sud o verso il nord dove cade qui vi resta chi bada al vento non seminerà chi guarda alle nuvole non mieterà come tu non conosci la via del vento né come si formino le ossa in seno alla donna incinta così non conosci l'opera di Dio che fa tutto fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani poiché tu non sai quale dei lavori riuscirà meglio se questo o quello o se ambedue saranno ugualmente buoni la luce è dolce ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole se dunque un uomo vive molti anni si rallegri tutti questi anni e pensi ai giorni delle tenebre che saranno molti tutto quello che avverrà è vanità ecclesiaste capitolo dodicesimo rallegrati pure o giovane durante la tua adolescenza e gioisca pure il cuor tuo durante i giorni della tua giovinezza cammina pure nelle vie dove ti mena il cuore seguendo gli sguardi degli occhi tuoi ma sapi che per tutte queste cose il dio ti chiamerà in giudizio bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni nei quali dirai io non ci ho più alcun piacere prima che il sole la luce la luna e le stelle s'oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano gli uomini forti si curvano le macinatrici si fermano perché son ridotti a poche quelli che le guardano dalle finestre si oscurano e i due battenti della porta si chiudano sulla strada perché diminuisce il rumore della macina in cui l'uomo si leva al canto dell'uccello tutte le figlie del canto si affievoliscano in cui uno ha paura delle alture ha degli spaventi mentre cammina in cui fiorisce il mandorlo la locusta si fa pesante e il cappero non fa più effetto perché l'uomo se ne va dalla sua dimora eterna e ai piagnoni percorrano le strade prima che il cordone d'argento si stacchi il vaso d'oro si spezzi la brocca si rompa sulla fonte la ruota infranta cada nel pozzo prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato vanità delle vanità dice l'ecclesiaste tutto è vanità l'ecclesiaste oltre ad essere un savio ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze l'ecclesiaste si è applicato a trovare delle parole gradevoli esse sono state scritte con dirittura e sono parole di verità le parole dei savi sono quelle degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come dei chiodi ben piantati esse sono date a un solo pastore del resto figlio al mio sta in guardia si fanno dei libri in numero infinito e molto studiare è una fatica per il corpo ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso temi Dio e osserva i suoi comandamenti perché questo è tutto dell'uomo poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera tutto ciò che è occulto sia bene sia male a tutti i suoi comandamenti Grazie.